The Coffee Way, una nuova linea lanciata da Vita Group per permettere l'apertura di nuovi punti vendita, ma non solo, saranno anche dei punti di incontro dedicati al re, il caffè. Il settore del caffè con l'ultimo ritrovato, quello delle capsule compatibili, rappresenta una fetta di mercato molto importante che negli ultimi anni ha avuto un'espansione incredibile. Gli obiettivi sono molto ambiziosi, aprire i primi 100 negozi per arrivare poi a 300, il punto vendita pilota ovviamente all'Aquila. Ci vogliamo prendere cura prima di tutto, prima ancora del cliente, del nostro primo cliente, quindi il nostro Francesì, perché gli vogliamo dare tutto il supporto necessario, quindi dagli allestimenti alla progettazione a tutti i sistemi informatici di cui ha bisogno il negozio, quindi il CRM, il sistema di cassa, la gestione del magazzino, per far sì che sia in contatto con noi sempre. E in contatto con noi può starci anche con tutto il supporto materiale e relazionale che potremo dargli con il customer service dedicato, con un retail manager incaricato di andare a fare supporto e formazione sul luogo. Noi grazie alla forza del nostro gruppo, alla forza delle nostre anche delle altre controllate, quindi degli altri brand come Vita, come Trout Coffee, eccetera, contiamo di poterne aprire 100 nell'arco del primo anno. Il numero che vogliamo raggiungere però poi è un 300 sul mercato italiano. Non possiamo che farlo all'Aquila perché lì il nostro gruppo ha le radici, lì il nostro gruppo ha tuttora, benché con la nostra sede sua a Milano comunque cerchiamo di coprire anche il nord e poi anche coordinare l'estero. Tutto ora siamo basati all'Aquila, il nostro centro produttivo è all'Aquila, tutto l'Eat Quarter è là, quindi partiremo con l'Aquila, poi subito a Roma e Milano con dei flagship store dove cercheremo di mettere anche l'esperienza caffetteria e poi divaghiamo in lungo e largo. Grande ampliamento in città, nuovi posti di lavoro, l'ennesima idea vincente della mente di Vita Group, Marco Reato, che si conferma è imprenditore di livello ed illuminato, capace di creare lavoro ma anche innovazione in diversi campi. Quindi con grosso ampliamento all'Aquila degli impianti di produzione stanno arrivando altri impianti che produrremo sempre noi, questo è il nostro stile, la nostra cultura che noi vogliamo, non vogliamo acquistare da nessuno, vogliamo produrci noi il caffè, vogliamo seguire noi gli acquisti del caffè per assicurarci la migliore qualità. Ci sono dei punti individuati ufficiosamente, non abbiamo ancora nulla di definito di firmato, però sul Viale Corrado IV ce ne sarà uno, ce ne sarà uno in centro e ce ne sarà uno alle parti di zona Torrione-San Francesco per il momento, però non vorremmo metterne altri, perché lo scopo dei nostri negozi per noi non è quello di profittare, certo non ci piace neanche buttare soldi, però l'obiettivo è dare un servizio, è un servizio importante al cliente.